Dopo 18 mesi di infruttuose trattative, lo Snebi, che è il sindacato che rappresenta le bonifiche in Italia, ha rigettato tutte le nostre richieste. Tra l'altro la nostra piattaforma era molto moderata e le richieste erano assolutamente contenute, ma questo non è servito a rimuovere le incrostazioni e i pregiudizi che lo Snebi ha posto davanti alle nostre rivendicazioni. Questo ci costringe a scendere in piazza a proclamare una serie di iniziative e questa è una prima di una serie di scioperi che faremo anche a livello nazionale per rimuovere questa posizione di chiusura totale verso le nostre aspettative. Non c'è né sul piano salariale né sul piano normativo disponibilità a cercare soluzioni condivise che a nostro avviso sono fondamentali anche per avere uno strumento di gestione del processo di riorganizzazione perché il contratto a nostro avviso in questo caso, in questa fase, assume anche una valenza che è quella di avere uno strumento in più per poter gestire eventuali esigenze derivanti dalla riorganizzazione in atto. Quindi il contratto è che si intreccia con un percorso che ovviamente ci trasciniamo da tempo e quindi l'esigenza nostra è quella di sensibilizzare le istituzioni affinché si porti a Roma i livelli delle controparti, il messaggio dei lavoratori e quindi si provi a sbloccare il rinnovo del contratto che è uno strumento fondamentale in questo caso. Quando si parla di diritto salariale a quanto ammonta la perdita dei lavoratori in questo momento? La perdita dei lavoratori è abbastanza alta, noi abbiamo chiesto un 6%, loro vogliono andare a un 2,7% con un indice IPCA che per noi è improponibile, fare fuori addirittura l'anno 2015 non considerarlo per niente, quindi per noi è inconcepibile accettare questa situazione. Noi andremo avanti con una serie di iniziative, avremo lo sciopero il 28 luglio a Roma, lo sciopero nazionale e poi dopo vedremo quello che succederà, cercheremo di convincere la controparte in qualche maniera e quindi scenderemo in piazza di nuovo per queste iniziative.